ben ritrovati cari amiche nel nostro angolo dedicato alla creatività oggi una puntata specialissima sul recupero di vecchi oggetti come può essere una vecchia seggiola o una vecchia cassetta della frutta è una tecnica molto bella molto interessante e molto facile quello che vi insegnerò oggi è la tecnica shabby la tecnica realmente si chiama de cappé lo stile per l'utilizzo dei colori che abbiamo utilizzato il marrone e bianco prende il nome di shabby ci sono varie tecniche vari metodi per fare questo tipo di decorazione io vi cercherò di insegnare la tecnica più facile veloce easy e più economica possibile allora recuperate una vecchia seggiola come potete vedere proprio una vecchia vecchia seggiola di quelle di una volta dopo averla lavata e sgrassata magari con acqua e aceto per sgrassare togliere le varie impurità prendiamo della carta della carta per carteggiare abrasiva di una grana abbastanza grossa cosa importante non utilizzate la forbice ma tagliate semplicemente la carta abrasiva con uno strappo la piegate e strappate per bene in questo modo come dobbiamo cominciare a procedere pieghiamo in questo modo la nostra carta abrasiva per non consumare l'eccesso di prodotto e cominciamo a carteggiare in questo modo come potete vedere subito in questo dettaglio nel carteggiare scende subito la polverina quello che noi dobbiamo togliere è la parte lucida la finitura che è stata data su questa seggiola che sia marrone a me non interessa potrebbe essere di tutti i colori del mondo la cosa importante è carteggiare il più possibile per togliere la parte del lucido come potete vedere la carta abrasiva va proprio togliere per bene e sporca un pochino questa magari è l'unica operazione che vi consiglio di fare fuori in giardino su un terrazzo in questi punti dove ci sono le varie unioni del del legno tipo qua della gamba che si va a incrociare con la nostra seduta sempre con la carta abrasiva lavoriamo a taglio per arrivare come potete vedere in questo punto nella parte inferiore sono dettagli ma molto importanti e poi continuiamo a carteggiare in questo modo fa molto velocemente non è importante arrivare al legno diciamo che più si carteggia meglio è in questo modo fatto questo come potete vedere c'è molta polverina che scende prendiamo delle salviettine umidificate per andare a ripulire o acqua aceto quello che avete a disposizione per andare a ripulire la nostra seggiola come potete vedere è rimasto un po di marrone sotto però si è completamente tolta la parte del lucido e poi dovete continuare e questo lavoro lo dovete fare su tutta la seggiola quindi si parte normalmente dalla parte inferiore e si carteggia pian pianino per togliere tutto l'effetto qui vedremo soltanto questa piccola parte per vedere la tecnica vado a ripulire anche la polvere che ho sul tavolo e adesso cominciamo a colorare allora che cosa serve serve un primer di color marrone normalmente in commercio lo trovate di color bianco questo è un prodotto che mi sono fatta produrre apposta per avere delle caratteristiche immediate allora prima di tutto molto compatto è di una bella tonalità del marrone e solo con uno strato copriamo completamente e soprattutto se rimangono dei piccoli residui di vernicio di colore sottostante li copre immediatamente e poi il prodotto essendo un primer aderisce perfettamente la cosa importante è di mescolarlo per bene con una spatola in questo modo qua poi possiamo prendere un pennello di quelli brutti che avete in casa non non importa è un prodotto autolivellante anche usato come il mio va benissimo bagniamo leggermente le setole dell'acqua e li andiamo a strizzare in questo modo per togliere più acqua possibile mi servono semplicemente umide andiamo a prendere il colore direttamente nel barattolo e lo stendiamo sulla nostra superficie allora guardate come va a coprire perfettamente con un solo strato la nostra parte che avremo carteggiato prima in questo modo qui essendo abbastanza denso questo prodotto crea come delle come si può dire delle montagnette che vanno a inglobare le piccole parti rovinate del legno se ci sono dei piccoli buchetti se ci sono dei piccoli graffi è abbastanza coprente e abbastanza denso da coprire tutti i difetti ecco qua avete visto come una sola mano è andata a coprire nel frattempo bisogna lasciare asciugare per poi poter fare il nostro effetto shabby utilizzando il colore bianco io adesso girerò la seggiola per poter lavorare e farvi vedere proprio questo effetto allora questa è la parte che io sono andata a lavorare già con l'effetto shabby andiamo a ricoprirla molto velocemente per vedere sul bianco come copre quindi io realmente qui vado a fare il primo passaggio che ho fatto prima quindi vado a rimettere dopo aver carteggiato vado a rimettere il mio color marrone molto velocemente come potete vedere questo logicamente voi non lo dovete fare sarete già la prima stesura del marrone io lo sto facendo per farvi vedere anche su una colorazione molto chiara come il colore è proprio molto coprente e andiamo a coprire tutto per bene ne basta veramente pochissimo di questo prodotto perché essendo molto denso si riesce a compattare benissimo sulla nostra superficie eccoci qua a questo punto dovremmo aspettare quei dieci minuti un quarto d'ora per perché sia bello asciutto logicamente voi dovete fare tutta tutta la seggiola e dopo che è stata fatta tutta la seggiola i primi punti che avrete dove avrete messo il primer marrone saranno belli che asciutti nel frattempo che si asciuga rivediamo il passaggio da questo punto allora dobbiamo sulla nostra base reale della nostra seggiola dobbiamo carteggiare in questo modo non tanto per arrivare all'effetto del legno ma per togliere la parte del lucido quindi come potete vedere io sto carteggiando quindi questo è il primo passaggio sto andando a togliere tutta la parte del lucido quando sono in questi punti qua devo proprio andarci a taglio e poi ricarteggiare in questo modo qua per bene come potete vedere fa molta polvere quindi questa operazione vi conviene magari farla sul terrazzo in giardino se avete la macchinetta per carteggiare fatelo con la macchinetta da carteggiare ma come potete vedere anche molto semplice farlo con della semplice carta abrasiva bella rossa quella da legno fatto questa operazione qua prendete una salvietta umidificata per togliere la polvere o se no potete utilizzare benissimo anche una spugna con acqua e aceto e questa è la parte tutta rovinata dove è stata carteggiata noi questa è la base dopo aver essere carteggiata questa è la base dopo aver steso il nostro primer marrone questa è la parte sbiancata con l'effetto shabby in un modo molto easy molto veloce quindi a questo punto prendiamo il nostro primer marrone e andiamo a vedere come la nostra seggiola la mettiamo a favore di camera come potete vedere guardate questo primer marrone come copre perfettamente con una sola stesura non servono tante mani proprio in questo modo molto veloce anche le piccole imperfezioni anche piccoli piccoli buchi dei dei tarli e così via vengono completamente coperti logicamente la preparazione del fondo non è un antitarlo quindi prima di decorare un mobile vecchio assicuratevi che i tarli non ci siano più ecco qua come potete vedere questo è un prodotto molto molto bello oltre che il colore e la tonalità del marrone che è veramente bellissima lo lasciamo asciugare asciuga in pochi minuti a questo punto ricominceremo a lavorare sulla nostra prima parte cosa bisogna prendere bisogna prendere il colore bianco questo colore bianco de cappé è una base quasi vinilica è molto più simile alle tempere da bambini che ai colori acrilici anche questo va mescolato molto bene esiste in tante tonalità diciamo che se noi vogliamo ottenere l'effetto shabby si usa sotto il primer marrone e sopra il bianco per fare la sbiancatura ecco qua vi ricordo che ci sono le vecchie tecniche dove si usa la candela dove si deve carteggiare molto diciamo che questa è una tecnica molto più facile molto più easy prendiamo sempre un pennello di questi qua bruttini un po rovinati usati perché sono molto più belli per fare l'effetto immergiamo il nostro pennello all'interno del prodotto senza arrivare a sporcare la ghiera con il colore riscendiamo ricarichiamo il colore facciamo scendere la parte in eccesso del colore e a questo punto dobbiamo fare questa operazione che è importantissima andiamo a pulire le facce del nostro pennello una e una due e non abbiamo finito a taglio dobbiamo togliere il colore che all'interno delle setole perché se non nel momento in cui lo andiamo appoggiare sulla nostra seggiola creiamo proprio una macchia di colore a questo punto posiziono il pennello così caricato sulla mia seggiola e comincio a lavorare in questo modo avanti e indietro e faccio tutte le parti della di dove ho applicato il mio colore prima il primer come se io stessi spolverando in un certo senso logicamente devo seguire anche le venature il senso della mia seggiola la parte della della spalliera la prenderò per il verticale in orizzontale questa a questo punto prendo un altro pennello simile ma asciutto e comincio a tirare il colore in questo modo come se io andassi asciugare a scaldare il mio prodotto e sto facendo una lavorazione quasi a secco non sto usando assolutamente acqua in questo modo le piccole imperfezioni che sono sotto la seggiola che sono sul legno usciranno creando lasciando vedere delle parti bianche delle parti marroni dando proprio l'idea di una di un mobile rovinato di un mobile vissuto allora la cosa importante quando si fanno queste decorazioni non è ottenere un effetto sgretolato che appena lo tocchi la pittura ti casca noi dobbiamo proprio creare un effetto che nel momento in cui lo andiamo a toccare andiamo proprio a sentire il bello il liscio della nostra seggiola questa è una tecnica molto facile decorativa e molto molto veloce come potete vedere sia su questa seggiola che su questa cassetta della frutta che è molto bello e molto simpatica fare questi piccoli effetti insegna veramente tantissimo e soprattutto è anche utile in casa per un porta giornali porta gomitoli porta legna porta frutta quello che voi desiderate spero tanto che vi sia piaciuto vi ricordo che per fare queste a questa tecnica in questo modo molto semplice serve il medium scusatemi il fondo marrone che è un primer apposta per la decorazione shabby e il colore bianco de cappé che esiste in tanti in tante tonalità potete trovare tutta la scheda tecnica dei prodotti utilizzati sul sito laravella.com e questo è un progetto pubblicato sulla rivista creativamente donna che potete trovare in edicola vi saluto vi aspetto per la prossima puntata e spero tanto che la creatività faccia parte di voi ciao a tutti